Entro il 26 gennaio remi nomi dei nostri aspiranti candidati sindaco, componenti e simpatizzanti delle forze politiche di opposizione, danno il primo scossone al fin troppo stantio clima preelettorale di Verbicaro. Si tratta del gruppo Opposizioni Unite che ha già fatto sapere che in caso di più candidati sindaco si ricorrerà alle primarie. Il movimento nasce alla fine di un percorso univoco in consiglio comunale durato quattro anni. La volontà è quella di dare vita ad un unico soggetto politico che parteciperà alle prossime elezioni comunali. Il progetto ha preso forma lo scorso ottobre e si è consolidato nelle riunioni che il movimento ha organizzato fino a metà dicembre. Una notizia che dovrebbe rompere il silenzio che incombe su questa fase preelettorale, in cui ancora si hanno poche certezze. Ad esempio il primo cittadino Felice Spingola non ha ancora detto se si vi candiderà. Inoltre voci di corridoio raccontano di una maggioranza spaccata e di riunioni chiarificatrici che dovrebbero tenersi proprio entro questo fine settimana. E se i componenti della maggioranza Spingola preferiscono non sbottonarsi troppo, allora non resta che affidarsi alla nota stampa di Opposizioni Unite che narra di una maggioranza poco solida che nel corso degli ultimi anni ha dimostrato poca compattezza e in cui Spingola non è più il capo indiscusso. Sempre secondo voci di corridoio fuori dal coro ci sarebbe anche un folto gruppo di giovani pronto a fare la differenza e lontano dalle solite logiche politiche, ma al momento se ne sa davvero poco e non è da escludere che possa trattarsi di una leggenda metropolitana creata ad hoc per destabilizzare ancora di più il clima politico di Verbicaro.